Ma cosa ti ho fatto di male? Perché mi tradisci con lui? Che sta in ogni telegiornale e spezza il contaggio tra noi Il potere della quarantena che unisce i congiunti a me Però almeno perché stasera accontentli a scorda Amore sta arrivando il 4 maggio e devi scegliere tra Comonte e Meche A volte passa un poco di coraggio e l'autocertificazione che tu pensi sulla Meche Non è palazzo Kicci questa casa ma un discreto appartamento può passare a fase 3 Prometto dentro al letto questa notte puoi chiamarmi Presidente Mi sveglio con quelli un po' costante che alla prossima diretta C'è digitando la Germ'è C'è digitando la Germ'è 白ica C'è lì con te l'anchime C'è lì con te l'anchime